Quindi ora me lo dici che avessi fatto l'Estracortus? Siamo già nel video successivo? Già E allora andiamo Ci siamo svegliati relativamente presto e abbiamo preso la macchina Svegliati Benvenuti a Etanconi Che cazzo vuoi Fabio? Che cazzo vuoi Fabio? Che cazzo vuoi? Sono il dottore, sono il signore del tempo, vengo dall'espiena di Calitri, nella costrezza di Costello, ho 903 anni, adesso sono colui che sarebbero a voi e 6 miliardi di persone sul pianeta qua sotto, c'è qualche problema forse? No? Allora, allonsì! Oh, scassi ciai minchia, vlagoni, la mettete in pigiama, davvero! No, in sostanza, questo è un video che parte stanco, ma che alle 4 esploderà, cioè ci sarà talmeno che sarà, che esploderà proprio il sensore e smettere il video. Oh, scassi ciai minchia, vajdes! La verità è che non eravamo lì solo per l'Etna Comics, ma avevamo pensato di organizzare un raduno, il Kumacca. Un raduno di youtuber siciliani aperto a chiunque volesse seguirci, e l'abbiamo fatto proprio lì. E allora, signori, Kumaccai! E dai, 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 azione! Ready, aim, fire! Che cos'è il Kumacca? Che cos'è il Kumacca? Qualcuno l'ho già spiegato, perché spiegano di nuovo? Siete i grossi paio! All'Etna Comics si svolge anche il Kumacca, l'incontro degli youtuber dei canoni. E' successa una cosa, sta piovendo, anzi forse non lo so, andiamo a controllare. Hai il raduno? E' saltato? Neanche Zeus può fermare il Kumacca. Controlliamo il meteo. Ok, non piove. Ecco, e questo è il punto di essere YouTube. Sento che vediamo la mia vita! Fallon guard! Fallon guard! Non era un'altra cosa? E questo? Non è un'altra cosa? Non è un'altra cosa? Non è un'altra cosa? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Sei tu! Esisti! Esisti! Noi pensavamo che fossi una figura virtuale. Hai qualcosa da dire? Ok, se c'è meglio... Noi pensavamo che fossi una figura virtuale. 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 Ma le cose divertenti dell'Etna Comics non sono ancora finite. che si fa una figura virtuale. Noi pensavamo che è una? E' un nuovo virus. 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 Signorina, signorina Francesca, video di lei la prego, mi scusi, ho usato troppo. Cosa significa questa grandissima opera che lei ha impresso nella mia pelle e nella mia mente? Or dunque, la simbologia alla quale mi sono, come dire, ispirata per questa opera di una grandiosità inenarrabile è senz'altro riferita a Codè Soggetto che ci dà ristoro nelle giornate più calde in questa Sicilia apposa. Codè Soggetto in quanto comunque monolito al quale noi tutti ci riferiamo e al quale sottostiamo e che veneriamo Altro non è che il ventilatore. Difatti, come potete vedere, la mia opera Altro non rappresenta nella sua integrità che queste prese d'aria di Altro, di un ventilatore stesso. Grazie. Scattano se tu salti perché sentono un contracolpo e allora partono in ferie. No, 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 no. Ora ti sei emozionato. Aspettate, ragazzi, l'aria è mia. Ho girato il mondano! La prossima volta non si salta. Allora, siamo rimasti bloccati per colp... La gente come svende subito la cosa. No, la stava svendendo. Io scordo gli ultimi momenti di dice. Abbiamo gli ascensori bloccati insieme a un sacco di gente, tipo Frafra. Fuori stanno cercando di aiutarci magari. Mi vuol do l'aria? No, ce l'ho all'aria. Ssss. Senti, basta. Sì. Nessuno che ha un piede di porco, è una fiera. Ma guarda, quello è un vetro. Chi l'aveva capito? Con c'altro sistema? Indicate, indicate riccio. No, non funziona nei bottoni, figlio mio. Avete tanti ospiti in un punto. Ragazzi, benvenuti alla nuova YouTube Ballet. Dov'è farmi dire, ero calmo. Sono 12, eh? Sì. 980. Sì, ma tu dici che non erano più visti di cui uno di questi saltassero i cellulati. Grazie, i cellulati. Ora per un po' do prendono sempre le scarse. Vedete per la foto cellulare, ma ve lì c'è qualcosa di fatto che non si apre. No, sì, no, la foto cellulare. Aprite? No, ma non è quello. No, ma non è quello. Non è quello, non è che non si apre. Suoniamo il camponello. Non serve a niente, già lo sa. Ti aprono. Magari si spuoni. Paolo, siamo chiusi nell'ascensore. Siamo veramente chiusi nell'ascensore al piano zero. E' il quarto agito. Davvero. Sì, praticamente siamo chiusi dentro. Non possiamo uscire. Non sto scherzando. Guardaci qua. Ci guardano come gli animali dentro una gara. No. Siamo tutti sudati. No. Perché ci guardano? Non ci guardano. Bau, bau. Facciamo un Lunger Games. Esatto. Io anche per questo sono solo comico. E poi ci fai la foto? Vorrei che qualcuno... Che stronza. Beh, io sto facendo i video. Vieni, vieni. Sì, ma come si la prende? Ciccio, dove sei? Ciccio, dove sei? Ciccio! Lago 92, cosa puoi fare in un suo video? Chiuderlo è meglio. Allora, questa è la fine del mondo del Kumacca. Buonasera. Siamo rimasti in pochi, ma siamo rimasti. Salve a tutti. Zia Lisa. Capite? Il canale di Revergo. Scrivetevi al canale di... Il canale di Revergo. Speriamo di fare altre cose del genere con persone migliori di queste. No, vai, sto scherzando. Queste e molte altre persone. Quanto swag avete visto in questo... Quanto swag. Cioè, scusate. E niente, adesso dobbiamo attraversare la strada e andare a casa. Quindi ce la tutte! Guarda, come sei? Bella roba. E quest'anno che fate? Ovviamente lo rifacciamo. Sì, signori. Avete capito bene. Quest'anno, all'Etna Comics. Sabato 4 alle 17. Il Kumacca si farà! E dai, 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 e che facciamo tutto! E non è fantastico tutto questo? Like, come. E dai, 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 dai. No, dai, dai. No, dai, dai, dai! Grazie a tutti.